Ciao a tutti, benvenuti. Fatemi sentire che noi ci carichiamo con la vostra energia. Per quanto mi riguarda sono più abituato a parlare anche online, però vi trovo anche a persone vedendo la faccia delle persone, quindi parlare da solo con la telecamera, vedendo pure la mia faccia, non mi piace. Ciao Fabio, benvenuto. Benvenuto a te. Ok, ci sono sei persone. Stasera parliamo di credenze limitanti, quindi un po' di ciò che riguarda la nostra mente, le nostre credenze, ciò che ci portiamo dietro da un'educazione, da un condizionamento, eccetera. Ciao Ivana e ciao Laksim. Ciao, benvenuta a tutti. Ciao. Per chi non mi conosce, io sono Filippo Lorusso, sono il compagno di Lebro Ficelli e anche io mi occupo di, permettetemi di mettere la tricoletta in crescita personale o anche, diciamo, facilitare un po' la consapevolezza di ciò che siamo, oltre la personalità, oltre le tricolette nella crescita personale, ma comunque sappiamo bene che è una fase di cui spesso si passa se vogliamo evolvere. per trovare la nostra felicità, la nostra pace di vita. Quindi lavoriamo anche sulla personalità. E oggi infatti parliamo proprio di qualcosa che riguarda fino alla personalità, quindi riguarda la nostra mente e anche il nostro ego. E sono le credenze. Che cosa sono le credenze? Iniziamo da parlare della mente a livello proprio fisico. Il nostro cervello è fatto di cellule che noi chiamiamo neuroni. E questi neuroni non sono altro che cellule che contengono un'informazione. Queste informazioni si collegano l'uno con l'altra creando delle associazioni, le cosiddette sinapsi. Queste associazioni vanno a formare dei concetti, appunto delle credenze, cioè dei concetti che noi riteniamo veri e che noi rimettiamo qui in discussione, soprattutto quando diventano inconsci. Come fanno a diventare inconsci? Beh, ovviamente, quando abbiamo, si presentano più prove, che queste credenze sono vere, quindi quando viviamo più volte la stessa cosa, allora quella cosa inizia a diventare una verità dentro di noi, proprio una cosa inconscia. Diciamo subito un esempio banale. Quando noi nasciamo, non abbiamo praticamente quasi niente nel nostro cervello, nella nostra memoria. Allora, subito, il cervello inizia ad acquisire informazioni. La prima può essere io vedo un certo viso, vedo, sento un certo odore, ascolto una certa voce e inizio a collegare che queste caratteristiche sono mia madre, è mia madre, è il concetto di mia madre. Lo vedo più volte, lo vedo tutti i giorni, questa associazione si va a consolidare e diventa inconscia. Quindi io ogni volta che vedo quel viso o solo ascolto la voce o sento quel particolare odore, subito lo associa a mia madre. Quindi non è più una cosa che penso consciamente, ma è un collegamento che viene fatto a livello inconscio. Quindi io neanche consapevole e consciamente mi sforzo di capire chi è quella persona. Automaticamente si risveglia con la credenza che quella è mia madre. Non solo tramite le ripetizioni si possono acquisire queste credenze, ma anche tramite le emozioni, ovvero, se io vivo qualcosa, anche una sola volta, però questa cosa dà una certa emozione, positiva o negativa che sia, questa si va a consolidare ancora più forte nel nostro supporto. Faccio un altro esempio. Io da piccolo, magari 5, 6, 7 anni, ho un'esperienza negativa, come ne so, con un cane. Come ne so, questo cane mi rincorre o mi abbaia, mi ringhia, magari mi salta a torso anche non facendo i sacchè, però io provo una forte emozione di paura, di spavento. Dopo quell'evento, io associerò la figura del cane all'emozione di paura, di spavento. Quindi si creano quelle che possono essere anche le fobie. Quindi io posso crearmi una fobia del cane e dopo anche 20 anni, 30 anni, io quando vedo un cane per strada, mi spavento. provo una paura terribile, anche se quel cane è piccolino e magari sta spaventando, vuole giocare. Io sarò portato ad allontanarmi, ad avere paura. Perché questo? Perché l'immagine del cane va a risvegliare quella credenza che è subconscia, quindi io automaticamente sento quell'emozione di paura, automaticamente penso cane uguale pericolo, uguale paura, uguale stargli lontani. E questo funziona nell'esempio banale del cane, ma funziona in qualsiasi cosa ci succede nella vita. Quindi se noi veniamo trattati in un certo modo, abbiamo delle certe esperienze, determinate esperienze che portano anche delle emozioni forti, si vanno a creare queste credenze che poi noi usiamo come base per giudicare il presente. Quindi noi giudichiamo la realtà che vediamo in base alle credenze che noi abbiamo nel nostro inconscio. Quindi tutte le varie frasi fidarsi bene, non fidarsi al meglio, posso contare solo sulla mia forza, o la vita è una lotta, il denaro non cresce sugli alberi, un po' degli esempi tra i più diffusi ce ne sono migliaia. Tutte queste sono credenze che io applico poi nella realtà che vivo tutti i giorni. e quindi si dice un po' che influenzo la realtà, non dico che creo la realtà perché noi in realtà non creiamo la realtà, bensì interpretiamo la realtà. Ed è quella interpretazione che è vera per noi, ed è quella interpretazione che è dolorosa, piuttosto che piacevole, piuttosto che problematica, eccetera eccetera, piuttosto che è sofferente. Quindi quello che è importante è capire che noi giudichiamo la realtà in base a ciò che abbiamo nel nostro cervello. Quindi anche influenza in un certo modo quello che ci accade intorno, perché noi sappiamo che tutto è un po' energia, non un po', tutto è energia. Chi ha letto un po', studiato un po' di fisica quantistica, sa che la base della materia, di tutto ciò che esiste, è energia. Questa energia non è limitata solo alla forma della sedia, del tavolo, del nostro corpo, bensì è un'energia che si estende, si estende nello spazio, quindi influisce con qualsiasi altra vibrazione che c'è nello spazio. Quindi la nostra vibrazione è fatta anche delle nostre credenze, fatta di tutto ciò che noi abbiamo nel nostro inconscio, delle emozioni magari depresse, delle emozioni del momento, ma anche di ciò che pensiamo, di ciò che crediamo nel profondo, ma tutto è influire sulla nostra energia. La nostra energia applicata all'esterno attira ciò che è in sintonia con la nostra energia. Perciò se noi crediamo che non puoi fidarti di nessuno, probabilmente andrò a crearmi sempre delle situazioni in cui confermerò questa credenza, andrò a tirare persone di cui non ci si può fidare, oppure persone che di solito sono affidabili, ma proprio con noi capita che fanno qualcosa per cui ci confermano il fatto che noi non ci possiamo fidare. Stessa cosa vale per il denaro, soprattutto su noi stessi. Credenze tipo io non valgo niente o io non merito amore, queste sono tutte credenze che si creano in base magari alla nostra educazione, ai nostri insegnanti, ai nostri genitori, senza cattiveria, ma semplicemente per inconsapevolezza, allora questo va a influire tutto ciò che ci accade ogni giorno. Per questo è importante riuscire un po' a capire quali sono le nostre credenze. Come facciamo a capire quali sono? Beh, la prima cosa che vi posso dire io è essere attenti e diventare degli osservatori. ovvero quando noi iniziamo a essere attenti a ciò che pensiamo, anche a ciò che diciamo agli altri, potremmo scoprirci a dire a qualcuno eh ma dalla vita non si può avere tutto. Se io mi accorgo di questo posso accorgermi che questa è una credenza. La realtà non è così. Non è vero che nella vita non puoi avere tutto. Al massimo non puoi avere tutto quello che vuoi tu. Ciò che vuole il tuo ego, anzi. il tuo ego non è sempre quello che ti serve o quello che porta alla vera felicità. Quindi essere presenti, quindi osservarsi aiuta molto a trovare le proprie credenze. Quindi fare attenzione ai nostri pensieri, a quello che diciamo agli altri. Un'altra cosa è magari osservare anche ciò che ci sta intorno. Per esempio i nostri familiari, i nostri amici. i nostri genitori in particolare. Perché quando siamo bambini noi assorbiamo la maggior parte delle informazioni da loro perché siamo tutto il tempo con loro. Proprio quando siamo bambini è il momento in cui noi assorbiamo di più. Fino ai 3-5 anni noi siamo delle spogne, assorbiamo qualsiasi cosa. Essendo i nostri genitori, coloro che ci nutrono e ci sostendono, per loro, per noi, loro sono degli dèi, loro hanno ragione a prescindere. Quindi se loro dicono che si fa il cattivo non ti do qualcosa di buono, noi possiamo collegare che se io sono cattivo non merito amore. Oppure colleghiamo il fatto che io sono cattivo. quindi se nel frattempo avete delle domande ovviamente scriveteci nei commenti fateci sentire che ci siete. Tra poco vi faremo fare anche un esercizio pratico proprio di estrapolazione delle credenze. Sempre un piacere stare in vostra compagnia. Grazie Vali. Bene, adesso voglio parlarvi di quelle che sono le tecniche che in realtà coprono solo queste credenze ma non le vanno a risolvere ovvero quelle che possiamo chiamare il pensiero positivo o i vari mantra che non siamo contro ma semplicemente sappiamo che il pensiero positivo è solo un qualcosa che noi pensiamo a livello superficiale a livello conscio quindi io posso pensare che posso ottenere quella casa che voglio quella macchina che voglio posso pensarlo ripeterlo 10.000 volte ogni giorno ma se io nel profondo so che non so quella casa non la merito o per avere quella casa ho bisogno di tanti soldi che in realtà non ho beh sono le credenze profonde che vanno a influire di più sulla realtà non è il nostro pensiero conscio quindi se non cambiamo quelle credenze più profonde non le portiamo a galla allora non possiamo attirare ciò che vogliamo solo col pensiero positivo con il pensiero cosciente divana ci scrive per cui seguire la mente vuol dire abbassare le nostre vibrazioni visto che si dirige sempre verso il passato o verso il futuro creando ansia e paura la presenza una parola è riuscire a rimanere connessi con noi stessi e con la nostra parte interiore però quando senti di dover affrontare questo percorso la forza interiore si aiuta esatto proprio come dici tu la mente ovviamente giudica in base al passato giudica il futuro in base al passato perché pensa ovviamente tutto ciò che abbiamo nella mente è un insieme di informazioni del passato e pensa di prevedere un futuro in base a quelle informazioni il che non è così la vita ti può sorprendere se tu inizi ad aprire la mente al fatto che ogni momento è diverso da quello precedente quindi se noi iniziamo a mettere in discussione ciò che abbiamo nella testa le nostre credenze diamo più possibilità alla vita a ciò che ci succede all'esterno di stupirci poi sicuramente il riuscire e l'imparare a stare in uno stato di presenza è un percorso quindi all'inizio impari ad essere presente per qualche istante poi quegli istanti diventano minuti poi a furia di fare pratica di fare pratica inizia ad entrare nel tuo quotidiano però effettivamente non è che dall'oggi al domani lasci andare la mente diventi l'osservatore esci da questi schemi è proprio un processo più tu stai in uno stato di osservazione più tu osservi la tua mente le tue credenze tutti quei meccanismi quelle vocine interne che ci sono costantemente dentro di noi e più di conseguenza riesci anche a metterle in luce e a far sì che loro perdano energia perdendo energia noi ne acquistiamo di conseguenza esatto se smettiamo di essere troppo identificati con lui che pensa ma iniziamo ad essere degli osservatori allora quella quelle credenze che sono adesso inconsce inizio a diventare consce se io mi accorgo di aver pensato una determinata credenza sulla vita in generale su me stesso o sugli altri già quella cosa non è più inconscia non sei più tu che la pensi ma te ne sei accorto quindi inizia a perdere potere su di te un altro un altro procedimento un altro processo che noi proponiamo lo proponiamo anche nelle coci nelle coci individuali one to one è fare una specie di riprogrammazione delle credenze questo bisogna prima trovare le proprie credenze limitanti questo lo possiamo fare come l'ho detto con l'osservazione ma anche con una piccola meditazione che vi faremo oggi vi leggeremo determinate credenze e voi diciamo sentirete grazie a un rilassamento e una connessione proprio inconscio sentirete che questa vi appartiene piuttosto che non vi appartiene cercate in questo caso di non raccontarvela di essere honesti con voi stessi di lasciare che l'inconscio vi dia la risposta piuttosto che la mente logica la mente razionale forse ve lo spiegheremo adesso prima di cominciare e può essere anche utile riprogrammare appunto la mente noi lo facciamo attraverso una tecnica di visualizzazione attraverso cui una volta che sapete di quale credenza volete lavorare andiamo a trovare una raffigurazione con la visualizzazione tramite il nostro inconscio e la andiamo a trasformare in un doppio quindi la nostra credenza la trasformiamo in un dubbio nel nostro inconscio e al posto di quella credenza ci andiamo a mettere la stessa ma opposta quindi positiva potenziante in modo tale che faccia inizia a fare parte del nostro inconscio e della nostra vibrazione non attrae più quello che la vecchia credenza attraeva prima questo purtroppo non abbiamo il tempo di farlo qua perché ci vorrebbe più di un'ora tra spiegazione e robe a varie lo facciamo singolarmente perché è un lavoro abbastanza lungo anche perché poi ognuno di noi ha delle credenze differenti ed è importante proprio andare nello specifico in ognuno di noi stasera intanto le estrapoleremo perché alla fine il primo step è iniziare a mettere luce e a metterle alla luce poi di conseguenza tutto può avvenire Ivana dice fino a quando si è da soli riesce ad avere uno stato di presenza è quando si deve interagire con tutto il resto che diventa più complicato è vero Ivana nel senso che io mi rendo conto quando quando vivevamo in Thailandia adesso da aprile che siamo rientrati in Europa ma abbiamo vissuto per un po' di anni in Thailandia e lì avevamo l'occasione di stare tanto tempo tante ore da soli tante ore in meditazioni era anche l'energia del luogo ti portava a stare in introspezione era più facile assolutamente sì se sei in metropolitana a Milano è un attimo più complicato e la pratica sta proprio nel riuscire a vivere lo stato di presenza sempre quindi lo stare da soli e lo stare in presenza lo stare in meditazione da soli vi serve come imparare a livello teorico quello che poi nel quotidiano dovete mettere in pratica perché lo stato di benessere non deve essere soltanto in quell'ora che faccio meditazione deve essere uno stato di benessere costante quindi imparo da sola trago i benefici mi riconnetto con ciò che realmente sono e poi sarà più facile portarlo nel mio quotidiano ovviamente qui entra in gioco la presenza e l'impegnarsi davvero nello stare sul pezzo poi è ovvio che quando sei da solo nessuno ti pastidisce nessuno tocca le tue cose e quindi ovviamente sei più rilassato sei più tranquillo mentre con gli altri è sempre più difficile ciao Federico però è lì che è più che è più ha più effetto quando sei con gli altri quando sei con gli altri energie per questo magari c'è chi diventa una sceta che chi va al di fuori dalla società per vivere in pace e poi magari non riesce più a tornare nella società invece la vera libertà è quando riesce ad essere libero anche con gli altri anche di fronte a persone inconsapevoli o comunque che sono molto condizionate tu comunque rimani nella tua centratura rimani libero da tutto ciò che può essere un condizionamento Sara dice è difficile rimuovere le credenze radicate soprattutto verso se stessi e soprattutto se cresciuti con persone intorno che ti installano la credenza invalidante anche se viste queste dinamiche perché non smettono di esserci? vuoi rispondere tu? sì sì allora beh in realtà è difficile è difficile rimuovere le credenze radicate ma non è impossibile e soprattutto si possono trascendere perché smettono di esserci? perché non smettono di esserci? perché non li hai viste abbastanza e comunque ne sei ancora condizionata allora riesci a a essere imperturbata anche di fronte a delle dinamiche anche se ci sono ancora riesci a non essere toccata da questo riesci a essere oltre il fatto che delle dinamiche ne sei condizionata molto spesso comprendiamo delle cose a livello teorico quindi capiamo delle credenze capiamo delle dinamiche capiamo degli schemi ma li capiamo solo ad un livello mentale e queste informazioni non scendono nel profondo nella radice non scendono al cuore le teniamo solo a livello mentale e allora lì per lì finché magari siamo al corso di formazione o stiamo facendo meditazione capiamo ci sentiamo bene e siamo nello state giusto ok ma poi nel quotidiano ci rifacciamo prendere da quelle emozioni perché in primis perché quando ci facciamo prendere da un'emozione non siamo presenti perché se no vedremo l'emozione arrivare e quell'emozione non ci attaccherebbe di sorpresa e poi perché probabilmente quella consapevolezza non è scesa ancora al cuore sicuramente le tecniche che facciamo possono aiutare a far scendere questa consapevolezza al cuore perché un conto è il dire ok ho capito credo di non valere ho questa credenza ok l'ho capito ho capito anche da dove viene però se non ho fatto un lavoro su di me se non ho fatto una riprogrammazione se non ho fatto un processo proprio di trasformazione concreto a volte manca questo tassello poi ci sono delle persone che si connettono subito direttamente allo spirito e non hanno bisogno di fare questi passaggi in questa società secondo me il lavorare sulla mente è un è un tassello importante se no non avremmo attratto questa società Sara risponde a no però quale domanda eh Sara no a cosa quale domanda bene adesso vi faremo chiudere gli occhi per qualche istante sì spieghiamo un attimo allora noi ci siamo preparati delle presenze magari le più le più diffuse anche un po' condizionati dalla società in cui viviamo le cose che possono essere le educazioni dei genitori eccetera adesso vi chiederemo di chiudere gli occhi vi faremo rilassare e vi faremo fare un'associazione tra la verità e la menzogna ovvero vi faremo sentire in quale punto del corpo voi sentite la verità quindi vi diremo ripeti in mente io sono e il vostro nome quella sarà la vostra verità quando ripetete nella vostra mente io sono Filippo dove sentite questa verità in quale parte del corpo se la sentite che ne so sul terzo occhio piuttosto che nel cuore allora capite che là è il punto della vostra verità poi ripetete la stessa frase però con un nome apposta sbagliato quindi io sono Francesco e sentirete subito una sensazione nel corpo è quella la sensazione della menzogna così associeremo la sensazione della verità e la sensazione della menzogna perché se immaginate la vostra mente come un grande magazzino immaginate di avere due scaffali uno scaffale della verità e uno scaffale della menzogna tutti noi sentiamo all'interno quando c'è qualcosa di vero e quando c'è qualcosa di falso se voi fate caso e riuscite ad ascoltarvi noterete che c'è un punto specifico del vostro corpo dove sentite di avere la certezza cioè sapete che voi esistete qui e ora sapete che state guardando questa diretta sapete pronunciate il vostro nome sapete il vostro nome che in questa vita vi chiamate così e poi c'è un altro punto del corpo dove invece sentite la falsità sentite quando qualcuno vi sta mentendo sentite un'emozione quando state voi dicendo una bugia c'è un punto specifico che potrebbe essere dalla bocca dello stomaco potrebbe essere dalle spalle potrebbe essere in vari punti diversi a seconda proprio della vostra personalità ma ognuno di voi c'è questo punto ecco trovate questi due punti Federico dice sul cuore e nel pezzo il falso ok bravo adesso che ce l'ha trovato ok Ivana dice ma le credenze scristallizzate con trasmutazione dell'emozione può comunque trasmutare c'è bisogno di andare più a fondo allora diciamo che con questa tecnica vai a lavorare sul piano mentale poi se volessimo parlare da una prospettiva più elevata possiamo dire che noi non siamo le nostre credenze non siamo la nostra mente e se riusciamo ad andare oltre e a connetterci direttamente con tutto ciò che realmente siamo bypassiamo tutto questo ma a volte la mente ha bisogno di fare anche questo step per per avere la la chiarezza mettere a posto i tassalli del puzzle la nostra mente a volte ha bisogno di questo per poi andare oltre bisogna di levarsi ciò che non serve e poi magari andare oltre che è lì che si trova il vero benessere la cosa di Filippo comunque ho capito l'idea c'è da fare un lavoro più profondo dunque sicuramente ho bisogno di una guida a questo punto grazie a te Sara allora ragazzi se vi va di seguire questa introspezione così capite un po' quali sono le vostre credenze se volete andare a lavorarci piuttosto che comunque solo osservarle mettere alla luce vi farà molto bene quindi vi chiedo con calma se volete chiedere gli occhi purtroppo non vi riedo quindi non riesco a seguirvi ci dispiace non potervi vedere ci affidiamo al fatto che ci state seguendo quindi chiudete un attimo gli occhi fate un bel respiro profondo rilassatevi potete rimanere sulla sedia dove siete iniziate a apporre l'attenzione sul vostro respiro sentite l'aria che entra ed esce dal vostro corpo non controllatelo non dirigentelo semplicemente lasciate che sia naturale diventate un osservatore del vostro respiro adesso immaginate che quando ispirate ispirate è un'energia un'energia dorata un prana dorato questo prana dorato entra nel vostro corpo e inizia a passi strada nel vostro corpo inizia a purificarvi a purirvi e quando ispirate buttate via tutte le tossine le tensioni le preoccupazioni tutte le negatività immaginate che quest'aria esce sporca grigia e man mano e man mano che ispirate ispirate sempre più questo prana dorato questa energia dorata che inizia a riempire pian piano tutto il vostro corpo e quando ispirate tutto ciò che non vi serve tutte le preoccupazioni le ansie le tossine man mano che ispirate il prana dorato inizia a riempire quasi tutto il vostro corpo rendendolo efficiente pulito energetico luminoso e man mano che ispirate immaginate che quest'aria inizia a diventare sempre meno sporca sempre più pulita stiamo buttando via tutto ciò che non vi serve che vi appesantisce e vi sentite sempre più rilassati sempre più a vostro agio in pace il prana dorato ormai ha raggiunto ogni cellula del vostro corpo pulendolo pulendolo per il candido riempendolo di luce di energia immaginate il vostro corpo colmo questa energia dorata vi rilassate sempre di più sempre più a vostro agio ormai l'aria che è ispirata è diventata trasparente pulita pura senza negatività senza pensiero adesso ho fatto l'attenzione sui suoni che abito attorno se ci sono rumori le voci lontane le voci dall'altra parte della stanza se c'è un silenzio ascoltate a fondo quel silenzio solo la mia voce state semplicemente di uno stato di presenza accogliete tutto ciò che arriva alla vostra percezione così com'è senza analizzarvi senza trasformarvi in un concetto senza dedicarvi accogliete tutto così com'è percepite il vostro corpo lì dove si trovano sulla sedia sul letto percepite il contatto tra la sedia e il vostro corpo tra i vestiti e il vostro corpo e adesso ripetete in mente io sono e il vostro non è che vedete una verità nella vostra mente cercate di percepire il punto del corpo in cui sentite questa verità ora che avete localizzato il punto dove il vostro corpo associa il concetto di verità ripetete la frase io sono con un nome sbagliato quindi una menzogna cercate di individuare il punto del vostro corpo in cui questa menzogna viene collegata dove il vostro corpo colloca una menzogna ora che avete individuato anche il punto del corpo dove sorge la menzogna dove sentite la menzogna e andrò a leggere un po' di credenze e se avete portato in mano il foglio e una penna potete annotarvele annotare se questa credenza vi appartiene allora la annotate se non vi appartiene se sentite che per voi è una menzogna allora potete semplicemente lasciarla la vita è una pregatura sentite che è il punto del corpo sentito la sensazione è nel punto della verità allora forse con la credenza di appartire vi è stata installata nel passato senza cattiveri un semplice condizionamento non giudicate nemmeno negativo il fatto che questo sia una credenza che perché significerebbe andarli in conflitti quindi creare ancora più conflitti in voi stessi conflitti interni che andrà ad aumentare l'energia di questa credenza andiamo avanti la vita è una lotta sentite che è vera questa credenza potete notare vi lascio qualche seconda per l'anima fidarsi bene confidarsi è meglio se dai troppo e altri se ne approfittano grazie a tutti grazie a tutti Non si può avere tutto dalla vita Posso contare solo sulle mie forze Io non valgo niente Io non merito amore Io non merito abbondanza Io sono cattivo Bisogna perdonare ma non dimenticare Io non sono bravo abbastanza Io non sono intelligente Io non sono degno di fiducia Per guadagnare bisogna faticare I soldi non crescono sugli alberi L'amore bisogna guadagnarlo La gente è cattiva E l'ultima Quando otterrò ciò che voglio Sarò felice Adesso tornate Ad ascoltare il vostro respiro Fermate ad essere semplicemente presenti Ascoltate i suoni che ci sono intorno Delle voci lontane O il silenzio che avete Oltre la mia voce Siete semplicemente Consapevoli Presenti Ricordatevi che il vostro corpo Ricordatevi che il vostro corpo È ancora colmo di quella luce dorata Che invigorisce Purifica Dà energia al vostro corpo Non tiene rilassati A vostro armi Ormai da percepire il vostro corpo Lì sulla sedia O sull'et In pace Realizzate che Qualunque cosa avete scritto Tutto è perfetto Così com'è Non c'è nulla di sbagliato Nulla a cui fare la guerra Sidocemente Guardare Non giudicare E andare oltre Cambiare qualcosa Se non ci piace Ma rimanere sempre Con un certo distacco Che è la vera assenza L'essenza Della pace Nell'armonia Nel contatto con l'essere Che non è mai toccato Per tutto ciò che accade Alla personalità Al nostro ego E nonostante E nonostante Le tempeste Le tempeste Della personalità Come l'abisso del mare Che nonostante le tempeste In superficie Rimane sempre caldo O come il cielo Che non è mai toccato Può essere riempito Di nuvole Di tempeste Lui rimane sempre oltre Sempre splendente Che non è mai toccato E nonostante le tempeste E nonostante le tempeste Fate un bel respiro profondo E con calma Poi i vostri tempi Potete tornare E riaprire i giocchi Com'è andata ragazzi? Purtroppo non vi vediamo, però quelli che c'erano all'inizio della meditazione ci sono ancora, immagino che ci abbiano seguito. Fateci sapere com'è andata, che cosa avete sentito. Se ha funzionato per voi, se avete sentito chiaramente qualche credenza. Qualche credente risonanza. Sapete che appunto ogni cosa che è uscita stasera è utile per voi proprio come strumento di osservazione. Anche solo per poter dire, ah ok, questa cosa la devo ancora un attimo guardare, la devo ancora un attimo vedere. Ecco, quello è il mio stelto. L'interno di questo è già un rendere conscio o inconscio, come diceva Jung o Jung, se per si vorrei. Poi se proprio sentite il bisogno di dover andare a lavorare su questa credenza, magari levarla, cambiarla nel vostro inconscio, allora noi possiamo proporvi dei lavori. Esatto. Una tecnica per trasformarla, per testere a Deborah in privato. Esatto. Da giugno ci stiamo portando avanti dei percorsi di colcini collettive, dove ci si incontra con diverse persone una volta alla settimana che si fanno insieme dei lavori che solitamente facciamo one to one, a più per più. Ma da giugno abbiamo creato questo incontro di colcini collettive che stiamo portando avanti appunto da un po' e che faremo partire domani. Qua vi mettiamo anche il link, se lo avete. Ogni settimana si parla di un argomento diverso, di solito facciamo il mercoledì alle 9, domani è il primo appuntamento di dicembre. Questo mese faremo un paio di meditazioni dinamiche di Osho, parleremo in occasione del Natale degli insegnamenti di Gesù e del Vangelo, parleremo anche di yoga e faremo anche una serata dedicata alle dipendenze. Inoltre abbiamo anche creato una pagina in cui abbiamo messo dei lavori che noi facciamo, delle registrazioni di nostri tanti eventi live che dirigono anche dalle percorsi collettive, creando proprio questi video lezioni che potete prendere individualmente in base agli argomenti che vi piacciono. Ci sono svariati argomenti, dalla cura del corpo piuttosto che alla risoluzione di trauma, piuttosto che a lavorare nella forza di più mentale, piuttosto che insegnamenti spirituali. Vi mandiamo un link delle procine collettive e anche di questa nuova pagina che abbiamo chiamato Scuola degli sverbi. Esatto, qua potete vedere tutto, vi abbiamo messo i link proprio qui. Intanto vi ringraziamo per questa serata insieme, io farò una serata mi sembra il 20 se non sbaglio, di nuovo questo ascolto infinito dedicato alla lettura delle carte angeliche. Vi ringrazio per questa serata, Sara ha scritto che io le ho tutte quelle menzionate, allora qui volevo chiarire una cosa, allora puoi fare anche da te, ti concentri un attimo, ti rilassi un attimo anche con il metodo che ho usato stasera, e magari ti metti davanti queste credenze, le leggi e puoi dare un voto da 1 a 10. Se ti rilassi e lasci che il tuo inconscio dia con la risposta di un numero, tu puoi dare una valutazione di quanto questa incluisce su di te, su ciò che vivi. Quindi magari puoi anche averle tutte, ma alcune hanno intensità diverse dalle altre, quindi qualcuna magari sì, la senti ma non è tanto pesante, magari qualcun'altra sì, per se avere dei 10, di questo che è dei 3, 4, quindi già questo ti serve a capire quanto ha influenza su di te, quanto ti conduziona, quindi dare più, diciamo, peso a una di questo che all'altra. Esatto, e un altro lavoro che si può fare è cercare un po' di andare in introspezione, cercare di capire da dove partono queste credenze, quindi se io ad oggi ho una credenza che mi dice non valgo, ok, da dove nasce questa credenza? Quando l'ho sentita la prima volta? Chi mi ha fatto percepire questo? Mi ha fatto credere questo? Perché quando nasciamo, quando siamo pueri, siamo anima e siamo dei bimbi appena arrivati in questa dimensione, non pensiamo di non valere. Quindi quando è che è partita questa credenza? Quando sei innescata? Cercate di farvi un po' queste domande introspettive, cercate di capire un po'. Sempre con un atteggiamento di accettazione, di accoglienza, altrimenti vai a creare sempre più conflitto interno. Esatto, esatto. Se avete invitato a fare qualche lavoro, potete contattarci, facciamo questi lavori anche riguardo alla mente, o riguardo anche riguardo ai traumi, eccetera, eccetera. Sì, io principalmente mi occupo di risoluzione dei traumi ormai in coaching. Adesso vi abbiamo mandato tutti i link qua, potete dare un'altra domanda. Se avete qualche altra domanda potete scrivere. Noi siamo a un minuto qui, due. A debito a proposito, è spuntata la mia missione, è un po' un casino, quindi mi servirà supporto da tante fonti, probabilmente. Cambiare il mondo. Allora, Federico, adesso voglio darti un consiglio su questa missione, cambiare il mondo. Te la do con una frase di Ramana Marsh, non so se lo conosci, un maestro indiano. Questa frase dice così. La tua realizzazione spirituale è il più grande servizio che tu puoi soffrire al mondo. Non importa cosa fai, non importa ciò che dici, non importa ciò che tu realizzi di te stesso a livello spirituale. Quello che tu realizzi diventerà la tua emanazione, che può essere anche silenziosa. Semplicemente con la tua emanazione, cambierà il mondo al posto tuo. Capisci? Cambiare se stessi per cambiare il mondo, dice Federico. Esatto. Esatto. Mi viene. Ti basta cambiare te stesso. Questa ultima... Perla. Perla. Vi ringraziamo per questa serata, vi mandiamo un abbraccio di luce, se volete chiedeteci anche l'amicizia su Facebook, se non ce l'avete, così possiamo sentirci anche privatamente. Un abbraccio. Ok ragazzi, un abbraccio, buona serata. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.